Se la Madonna di Cesto Cove è qui perché qui c'è stato San Giovanni Paolo II e San Giovanni II perché qui ha incontrato l'uomo di Dio, il crocifisso, il rappresentante delle stigmate di nostro Signore. Io ricordo l'incontro con Giovanni Paolo II quando mi ha nominato arcivesco di questa diocesi, era il 25 marzo del 2003. Sono andato in udienza da lui, era già piuttosto malandato, mi ha ricevuto, era seduto e incomincia a parlarmi e mi dice «Sì, sì, San Giovanni Rotondo, sono stato due volte da prete e da papa ed ho incontrato Padre Pio, un incontro che mi ha arricchito e si è fermato qui. Adesso tu vai a portare la grazia del Signore a questi fratelli a cui ti mando?». Io non sapevo rispondere nulla. Mi sono sentito inviato con una ricchezza che mi era stata comunicata da Colui che ci conferma nella fede. E allora ringraziamo la Vergine Santa per questa sua visita in mezzo a noi. Ringraziamo San Giovanni Paolo II che ha reso possibile questo incontro. Ringraziamo San Pio da Pietrecina all'origine di tutto quello che accade qui, di questo evento che sono stati questi quindici giorni. C'è lui che interceda per tutti noi, che sappiamo amare con quella tenerezza con cui lui amava la Vergine Santa. Certi che in questo incrocio di amore sarà la nostra salvezza, la nostra gioia e l'impegno a portare speranza.